Scioperi e Sittin stanno caratterizzando negli ultimi giorni il tormentato momento della Fondazione Betania di Catanzaro, che gestisce 17 strutture socioassistenziali e 330 posti letto distribuite tra le province di Catanzaro e Vibo Valenzi. È forse il momento peggiore nei 74 anni dall'istituzione. Sono infatti giunte a sei le mensilità arretrate di cui si lamenta il pagamento, anche se le sofferenze della gestione e dunque dei lavoratori sono iniziate una decina d'anni fa, quando ebbe il via l'estenuante rimpallo di responsabilità fra Regione Calabria ed Azienda Sanitaria di Catanzaro circa la precisa definizione delle competenze sui pagamenti. Ora però si è aggiunto anche un altro problema, ovvero un pignoramento che finisce col determinare il blocco dei fondi regionali. Anche le sezioni Funzione Pubblica di CGL, CISL e UIL condividono i motivi alla base della protesta e denunciano la situazione in cui versano i lavoratori, che da cinque mesi continuano a garantire servizi ed assistenza, giacché anche durante le manifestazioni sono stati garantiti i servizi minimi. Ma in attesa di notizie da parte dell'azienda sanitaria catanzarese eppure dal fronte giudiziario, poiché anche la questione del pignoramento presenta aspetti non del tutto chiari, i lavoratori non si accontentano delle rassicurazioni verbali che giungono dai vertici della fondazione e sollecitano il pagamento immediato di almeno un paio di mensilità arretrate. La fondazione Betania è il fiore di occhiello tra le strutture che offrono assistenza alle persone con disabilità, che hanno bisogno di riabilitazione, di assistenza. Contemporaneamente però ci ritroviamo con i lavoratori che avanzano sui stipendi. Problemi che si ripetono ciclicamente. Il problema fino a poco tempo fa erano le istituzioni che non pagavano, quindi la regione che ha ritardi nei pagamenti, l'ASP che ha ritardi nei pagamenti. Adesso c'è un discorso in più che al momento è anche poco chiaro perché è subentrato un pignoramento alla fondazione Betania e quindi questi soldi che dovevano arrivare da parte dell'ASP della regione sono bloccati e non arrivano nelle casse della fondazione Betania. Non è una situazione che comunque può interessare direttamente il lavoratore che giornalmente viene a garantire il proprio servizio e mensilmente vuole il suo stipendio. Ogni volta esce un problema diverso. Noi non ce la facciamo più perché io sono personalmente 28 anni che lavoro qua, 21 anni di manifestazioni, di sitine e di sciopere.